Oggi si flamma, cioè mi flammate Oioho, ciao a tutti ragazzi, io sono Vergence di Nintendo Night e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su un nuovo, cioè un nuovo, un tipo di video che non propongo da sei mesi Ho fatto un post direttamente in scheda community dove vi ho scritto di criticare il GT, quello che non vi piace E quello per quanto riguarda la mia persona o i contenuti insomma È una cosa che già feci altre due volte in passato, già fatta un anno fa e sei mesi fa E adesso la ripropongo, vediamo se è cambiato qualcosa rispetto all'epoca Il primo video fu tremendo, arrivarono un sacco di critiche pesantissime alle quali ho risposto Pure a tono perché erano critiche insensate la maggior parte, completamente randomiche Il secondo era un po' più soft, infatti c'erano critiche principalmente per quanto riguarda i video dei rubi Vediamo se adesso la situazione è cambiata un pochettino oppure no Detto questo, direi che possiamo cominciare Io sono sulla schermata del post, a voi vi farò vedere direttamente gli screen Quando leggerò qua sotto la critica in questione e ci risponderò Evilnero666 scrive Quando ci sono le tier list a volte mi date l'impressione che certi rec le criticate pesantemente Non tanto per essere obiettivi ma per infastidire i fan del mazzo in questione Soprattutto quelli messi in forfun, mi smentite o confermate che a volte è esagerata apposta Bisogna essere onesti con se stessi I mazzi che sono in forfun fanno cagare competitivamente, punto È una cosa oggettiva Poi il fatto che la gente venga a scrivere Eh ma io ci vinco Dimostra il fatto che quella gente è scarsa a giocare Perché? Perché Eh io ci vinco contro i mazzi che hai messo in T1 con il mio Io sei in giù non vuol dire un cazzo Perché sostanzialmente la tier list si basa sui risultati ufficiali Nel momento che io ho fatto pure un video dedicato alla tier list Non contano un cazzo i vostri risultati ufficiali ragazzi I vostri risultati ufficiali non contano Perché che voi avete fatto top al vostro local con i vostri amici Contro Tribligata usando Yosenjul Non ne frega un cazzo a nessuno Contano i tornei ufficiali E quindi è normale che io dopo che ogni tier list E ogni tier list E ogni tier list mi becco gli stessi commenti Poi ad un certo punto dico Fate cagare, punto È una cosa che è cresciuta con il tempo Le tier list ormai vanno avanti da più di un anno ragazzi Vanno avanti veramente da più di un anno E ogni tier list sempre C'è sempre uno o più giocatori Del mazzo che sta in for fun che si lamenta A quel punto io mi rompo il cazzo E vi dico andate a fanculo Io vi prendo per il culo a sto punto E sono io il primo che gioca for fun e rogue Quindi Prendete molto semplicemente la cosa come un Ok va bene Sti cazzi Cioè è una presa per il culo semplice Cioè non vedo per quel motivo prendersela in tutta onestà Che vi sto minacciando di morte Se dico che il vostro mazzo fa cagare No quindi Francesco non capisco perché Nelle tier list mettete mazzi inutili E poi togliete mazzi più forti Tipo il grand magio Che può essere un ottimo rogue Mostrami le top di grand magio Non ce li hai? Bene Il problema principale Che molti non capiscono È che quando trovate mazzi di merda Nelle tier list Che vanno tutti in for fun Cioè c'è proprio Ogni tier list Vengono aggiunti dei mazzi E tolti altri ovviamente Che vanno fisso Quasi sempre tutti in for fun E allora mi potesse dire Ma perché li metti? Non sapete quello che esce nel mese Allora a questo punto Se mi fate questa domanda Perché ragazzi Se andate a vedere Synchron Nella scorsa tier list Quella di agosto È normale che lo inserisco È un mazzo Che esce E viene supportato In Dama Espansione di quel mese E quindi io prendo quel mazzo Lo vanno a mettere nella tier list Appunto perché ci sono i supporti Quindi Sì È normale che possono sembrare mazzi inutili Perché Eh Nessuno li gioca Però vengono supportati in quel periodo Devo per forza andare a recensire il supporto Francesco Putignano Dovresti smetterla di chiedere Luna Light Tiger a 1 Scarcerata del tutto Perché è una carta sbagliata Magari metti l'hard ones per turno E allora lì hai ragione Ragazzi Luna Light è un mazzo che non combino un cazzo È stato forte quando c'era Azatoth A 3 Quando c'era Azatoth Giocabile E comunque Se vai a limitare tanki E mi vai a bannare rivolta Luna Light Tiger Onestamente La vedrei relativamente bene Perché tanto Curta la merda che sta ora Onestamente Luna Light Non andrebbe a creare problemi Tribligata Sti cazzi Tribligata Rompe il cazzo da un anno Quasi Quindi Onestamente Che ci sia Tiger O meno Onestamente A sto punto Fatto 30 Facciamo 31 Non vedo per quale motivo Tiger Debba essere bannata Quando ci sono Robe sbroccate in giro Va a penalizzare un mazzo Che non fa Non fa niente Un mazzo che non fa Niente Letteralmente Niente Il mazzo si prende Ogni entrappi del gioco Si prende Nibiru Non ha ripartenze Se si prende Nibiru Quindi Si Tiger di per se Di base è sbagliata Pure Profumo è sbagliata E' un Reborn No Once Per Turn Che ti fa serciare Scartando No Once Per Turn Pure quello è sbagliato E allora? Dingo Pictures Mio Dio Sto nome Non è proprio una critica Ma mi piacerebbe Vedere più deck profile E nei commenti Cioè nelle risposte Al commento Dicono sono d'accordo Con te Sto pensando la stessa cosa Dagli più deck list Ho sempre pensato Che è un canale Di Yu-Gi-Oh Basato solo sulle deck list E' fottutamente Inutile E' ripetitivo E quindi Preferisco molto di più Portare contenuti diversi Piuttosto che Deck profile duelli Io ho sempre voluto Estraniarmi Da quello che era stato fatto In passato Fino ad ora Come canale X Di Yu-Gi-Oh Un canale X Dei tanti Di Yu-Gi-Oh Fa Deck list Duelli Deck list Duelli Deck list Duelli Ogni tanto Opening Quelli dei tre contenuti Fa E così Yu-Gi-Tube Italia Non crescerà Mai Perché non ha contenuti Innovativi Io Quello sto provando a fare Sto provando a portare Quel tipo di contenuti Innovativi Quindi E' normale Che poi I duelli Sono di meno Vabbè ovviamente Poi Caso di talento duelli Un po' particolare Perché ultimamente Diciamo che Non è che è proprio semplice Di trovarsi per registrare I duelli Ecco mettiamola così E il caso Delle deck list E' emblematico Perché Ovviamente Sono il tipo di contenuto Che viene poi A mancare un po' di più Sul canale Rispetto ad altri canali Per favorire Serie Nuove Particolari Diverse Poi Se non vi piace Che cosa vi devo dire Cioè Vabbè Se non vi piace Pazienza Disiscrivetevi Easy Ah e prima che Vi veniate a lamentare Lo leco adesso Per piacere qualcuno Nel caso sia un ritardato E non sia arrivato A questo punto del video Scrivetelo Come è disposto al commento Perché già me lo immagino Che la gente Non arriva a questo punto di video E già lo scrive Ragazzi Io non mi sto incazzando Non mi sto incazzando Molto semplicemente Io sono tranquillissimo Mentre rispondo a queste cose Magari vi posso sembrare Presuntuoso Presuntuoso Niente Un par di palle No Non sono presuntuoso Semplicemente sto rispondendo A quello che mi state dicendo Con tutta la tranquillità del mondo Io Non sono incazzato Quindi Andate tranquilli Chiello96 Prendetela come una critica costruttiva Non come un dissing Quando fate video Dove spiegate I dubbi che vi pongono Spesso noto Che c'è molta superiorità Nel senso che parlate Soprattutto l'altro ragazzo Non tu Dando per scontato Facendo credere Che sia tutto logico E che molte domande Siano sceme Magari è vero Che alcune domande Sono veramente stupide Ma questo non giustifica Una risposta di un certo tipo Alla fine bisogna anche Ringraziare Che qualcuno Veda voi Come punto di riferimento Per il gioco Del ragazzino Del ragazzino più principiante Al giocatore più esperto Ripeto Non è un attacco Ma una critica costruttiva Spero La prendiate in questo modo Io Non capisco Per quale motivo Per la gente Sia così difficile Capire Il cazzo Di umorismo Perché ragazzi Io a questo punto Alla trecentesima volta Che mi viene detta Sta cosa Non ho idea Di come rispondervi In tutta onestà Ragazzi Io Cioè più che altro Simone In quei video Proviamo A Renderli Il più leggeri possibile E quindi Ogni tanto Ci scappa La presa per il culo Goliardica A dubbi Onestamente Di merda Sui quali Onestamente Facendoci due più due Ci arrivi da solo Senza dover Chiedere a qualcun altro Dovremmo essere onorati Di Essere presi Come punto di riferimento Ragazzi Non siamo gli unici Che vengono presi Come punto di riferimento La stessa cosa Che viene a chiedere Una persona Che ha appena iniziato Il gioco A noi La va a chiedere anche A altre quattro persone Diverse Che trova al local Quindi Non vedo Per quale motivo Dovremmo essere onorati Semplicemente Io faccio Quella serie Apposta Per Farmi Proporre dei dubbi Per poi appunto Risolverli E non è che Dovremmo essere onorati Che la gente Ci prenda Come punto di riferimento No È una serie fatta apposta Quindi uno Se ha un dubbio Lo scriverà sotto E poi gli verrà risposto Successivamente Non vedo Per quale motivo Dobbiamo essere onorati Io e Simone Di Persone che ci vengono A chiedere Dubbi Su delle carte È capitato È capitato un sacco Di volte Che pure I canali più piccoli Di YouTube Italia Venga chiesto Eh ma come funziona Questa carta Eppure quei canali più piccoli Devono essere onorati Non lo so Cioè Inoltre poi Sembra che Alcuni di voi Non capiscano l'ironia Perché Quelle reazioni Ma L'ha detto anche Simone Diverse volte Quasi Anzi tutte Sono Sono fatte Per far ridere Per intrattenere Non sapete Cosa vuol dire Intrattenere Se ve la prendete Per queste cose E io non ti sto rispondendo In maniera incazzata Non me la sono presa Assolutamente Però È una cosa Che fatico a capire Per quale motivo In continuazioni Ogni volta Arrivate sempre A dirmi Eh ma siete troppo cattivi È ironia È semplice Da capire Ironia Non ti piace Un tu in generale Non a te Chiello Non ti piace Questo atteggiamento Che abbiamo Bene Disiscriverti al canale Non vedere più i video miei E passa al prossimo canale Ci sono tanti canali Di YouTube Italia Quindi Anzi adesso Stanno ancora crescendo Stanno incominciando Sempre di più a lamentare Quindi Vai da quelli Insultate i vostri iscritti Ma sì Ma sì Insultiamo E va Noi siamo Dei pezzi di merda Sì Siamo dei pezzi di merda 5 like Sì Vi insultiamo Perché siamo dei pezzi di merda Vi odiamo Coglioni Porca troia Elfi senpai Senpai è vabbè Elfi Non so Se questa si potrebbe considerare Una critica Oppure Consiglio Ma Secondo me Dovreste fare video Altre cose Dovreste fare video Di altre cose Invece che solo su Yu-Gi-Oh In modo da non rendere il canale Troppo monotono E ripetitivo Video con Tenma Quando Con Tenma Proprio Non penso Uscirà Però Delle profile sue Sono già uscite Quindi Ok Comunque Ci ho provato A portare cose esterne A Yu-Gi-Oh Su questo canale E sono andate Tutte una peggio Dell'altra Come risultati Dal punto di vista Di views E dato che Portare video Che non si caga nessuno Poi a un certo punto Diventa danno Sopra il canale stesso GTA ormai viene visto Come canale di Yu-Gi-Tube E canale di Yu-Gi-Oh E YouTube mi ha visto Come creator di Yu-Gi-Oh E quindi Io sono fidelizzato Adesso in questo modo Quindi Cambiare format È letteralmente Per me Impossibile Proverò a farlo Sul mio canale personale A portare format diversi A portare argomenti Diversi Nel caso Andate a seguire quello Il mio canale personale Che al momento Dovrebbe avere 20 iscritti Non lo so Proverò lì A portare qualcosa Un po' diverso Mettiamola così Devo ancora organizzarmi In questo momento So che Quando ho ripreso con i video Non ho preparato Cioè Avevo letto Farò uscire dei video Su Su Vergence Ok Non ho fatto uscire un cazzo Fino ad ora Va bene Perché sono nel Macello più totale In questo momento E Quando sono nel Casino più totale Già è difficile Far uscire un video Al giorno su Game in Tonight Quindi Mi sto un attimino Assestando E poi Quando potrò Caricherò della roba Detto questo Comunque Nel caso Andate lì Già Già ci sono contenuti diversi Vediamo che Che belle views Faranno quei video Insomma Ragazzi Per quanto si dica Le views sono importanti Alla fine È quello che fa andare Su un canale È quello che lo fa rimanere Sulla cresta dell'onda Tra virgolette Quindi Devo per forza di cose Guardarle Se Io pubblico un video Che non è di Yugi E mi fa 100 views In 24 ore È negativo per forza Quel risultato Letto questo ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto E che non vi abbia fatto Incazzare troppo Io Sono Come vedete Tranquillo Non sono incazzato Quindi Cioè Se ogni tanto Alzo Il tono È Per Enfatizzare Prendetela così Inoltre Andate a leggere Il significato di ironia Per piacere Noi ci vediamo Come al solito Domani Alle 15 Con un nuovo video Ciao ragazzi Ciao